Ciao a tutti, io sono Tessica Gaetana e lei è Diana Castellino. Oggi vi faccio vedere un altro esercizio su Reformer che allena i muscoli delle gambe, ma in forza è allena anche i muscoli della nostra colonna. Da qui piano, stendiamo il braccio verso l'alto, attiva bene l'addome, prendi aria, fuori aria, abbi il cabello, spingendo i due piedi, inspira, decelera e torna. Fuori aria, stendo e chiudo, decelerando il cabello, porto le mani un po' al gusto, apro il cabello di nuovo e da qui inizio ad adottare la mia colonna, partendo dalla testa e arrivo ai miei piedi, prendo aria e mentre risrotto la mia colonna, piego allo stesso tempo le ginocchia e chiudo il cabello. Questo esercizio lavora e rinforza i muscoli delle gambe, rinforza i muscoli dell'addome e rende più mobile e flessibile le vertebre della nostra colonna. Buon Pilates a tutti, un saluto da Francesca Rietani e Diana Tassalino del Corri Inglietto. Grazie.